Generale Massimo Panizzi, la sua visita che coincide con il quinto anniversario del terremoto, cinque anni di forte impegno da parte dell'esercito che in quelle ore drammatiche è intervenuto subito con gli uomini e le donne, 33esimo reggimento, nono alpini, oggi l'unico reggimento rimasto in forza in questa città, quindi un impegno importante di un esercito che ha saputo molto aiutare la popolazione e lo ha fatto poi in questi anni, non dimenticando l'Aquila. Sì, l'esercito è una risorsa per il Paese, quindi era inevitabile che intervenisse, l'ha fatto a modo suo, con prontezza, sentendosi pienamente coinvolto, non parliamo poi degli alpini che in questa città ci sono da sempre, quindi considerano l'Abruzzo parte integrante del loro modo di essere e noi nei primi momenti siamo intervenuti immediatamente con quello che potevamo, quindi con le nostre risorse in loco, con gli alpini, con il 33esimo, poi con elicotteri, con ingegneri per cercare di fare il possibile per quanto riguarda immediatamente cercare di salvare le vite delle persone. Ricostruire è una cosa che va avanti, diamo un contributo da un punto di vista della sicurezza. Con i nostri elicotteri abbiamo cercato di sgombrare immediatamente i feriti portandoli nei luoghi di cura dove potevano essere meglio assistiti e poi l'allestimento delle tendoponi in cui siamo proprio per nostra natura esperti. Ecco, diciamo, in queste varie componenti l'esercito si è dimostrato, secondo me, utilissimo. Lei conosce benissimo questa città, che effetto le fa vederla così, con tante difficoltà, con una ricostruzione che sta iniziando, ma naturalmente il processo è lunghissimo, camminare attraverso quei vicoli che lei ha conosciuto, in quel corso che lei ha conosciuto diversamente, in un momento più felice, che effetto fa a livello umano? Io ero qua da giovane tenente comandante della 93a Compagnia dell'Aquila e intanto devo dire che quando il terremoto è successo, cinque anni fa, io mi trovavo in un altro paese, mi trovavo in Belgio, e l'allarme è stato dato subito. Io ancora ricordo quanti messaggi ho ricevuto da ex alpini, da ex sottotenenti, che erano legati, ancorché vivessero fuori dall'Abruzzo, moltissimo alla nostra esperienza. C'è stata una sorta di catena della solidarietà, che se non si poteva realizzare in modo tangibile, però si realizzava attraverso questo cercare di essere comunque vicini alla popolazione. Certo che quando poi, diventato comandante di brigata, ho reso visita sia al reggimento di oggi, sia soprattutto alla città, è stata una specie di tuffa al cuore. Io ricordavo la piazza del Duomo piena di gente, la grande camminata che collega il centro con la caserma Rossi, me la ricordo veramente piena di studenti, quindi vedere il panorama adesso è una cosa che mi ha fatto impressione, però ho anche percepito una grande speranza, veramente segni di ottimismo, di voglia di rinascere, questa secondo me è la cosa più importante. Un'ultima domanda, due vostri alpini, fotografi, appassionati di fotografia, hanno voluto regalare a questa città una mostra di immagini dell'Aquila, appunto a cinque anni dal terremoto, immagini in bianco e nero, questa mostra ha visto nei due giorni, perché l'abbiamo seguita un boom di visitatori, davvero tanta gente, ha scritto anche nel libro visite le loro emozioni, quindi ha suscitato qualcosa e poi a favore di un'associazione. Ecco gli alpini che riescono anche in altro modo ad essere di sostegno a questa città. Sì, è un contributo che abbiamo accettato con grande piacere, questi due ragazzi sono stati bravissimi, è una testimonianza che credo è utile adesso e sarà utile anche in futuro, soprattutto quando la città sarà ricostruita e comunque per poterla confrontare. Ma sicuramente è una testimonianza che potrà durare, speriamo, per le generazioni ed è una tangibile dimostrazione del nostro affetto per l'Aquila e per l'Abruzzo.